Ciao creatura, io sono Eccati Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Kuzai ASMR. Ah, una serie di sfortunati eventi, no, non sono creazioni a tema, ma è ciò che è successo realmente. Sì, ho provato a fare delle creazioni in resina di Halloween, ma è andato tutto storto. In primo luogo la bilancia che usavo per la resina mi si è rotta e loro ho detto vabbè, che problema c'è, usiamo la bilancia, quella da cucina. Ma l'ho fatto casino e il componente A prima mi dava un numero, poi me ne ha dato un altro, poi me ne ha dato un altro di nuovo. E ho detto vabbè, non importa, mettiamo il B e mi ha dato altri numeri, diciamo, dava i numeri, ecco, diciamo così. E io ho provato a rimediare, però, boh, non lo so, ho detto, ormai ho versato tutto insieme, non posso più dividere componente A da componente B. Mi schio è ciò che succede, succede, e quindi ho continuato lo stesso in perterre da non curante delle cose orribili che sarebbero successe. Poi ho anche un po' appasticciato tutto, in più anche ho fatto casino quei colori, beh, diciamo che non poteva andarmi, no, dai, poteva andarmi decisamente peggio, dai, diciamo così. Comunque, ti illustro le mie idee. Volevo creare una prima base trasparente in cui inserire questi confetti di Halloween che mi sono stati regalati tanto tempo fa in una vecchia mystery box. E quindi le ho inseriti, qui volevo fare una specie di parure di orecchini con lana, con le succhette. Poi qui vado a mettere sempre lo strato di resina trasparente come base, per poi dopo colarci uno sfondo. Vado a inserire, ho velocizzato un po' i video perché altrimenti poteva risultare troppo lungo e noioso. Ho inserito i pipistrelli, uno l'ho anche tagliato per fare, cioè sono stata anche precisa nelle mie cose, ecco. L'ho tagliato uno per far sembrare che si bucasse fuori o dentro alla planchette. Questo nella mia testa sarebbe stato bellissimo, ma non spoilerò altro. Poi qua ho inserito le succhette arancioni e nell'altra invece parure, che doveva essere una parure. Orecchini con le succhette arancioni e nella planchette da colciondolo ho messo quelle nere. Per fare una cosa invertita, qua nella tavola Wisha ho messo i ragnetti e poi vado a inserire i pipistrelli, facendo cura di inserire bene dentro la resina, che la resina trasparente coprisse bene tutti i confetti. Sono di plastica, tipo carta plastificata, sagomata. Quindi vado a inserirne un numero random e cercando di farli stare tutti insieme, però divisi, separati, però diciamo messi bene, come nella mia testa poteva essere messi bene. Le sistemo qua e là con uno stossicadenti, per farne stare più possibile, non lasciare dei buchi brutti, no? Qua aggiungo, insomma, non ho troppo distratto a coprirli bene, per agglomerare, fare agglomerare tutta la parte trasparente, la prima base che poi dovrebbe emergere meglio con uno sfondo colorato. Dovrebbe, dico per non spoilerare, comunque, ho fatto così. Qui mostro i confetti di Halloween, perché vado a scegliere quello da inserire nella bara, e quello che ci sta meglio è la zucchetta, gli altri erano troppo grandi. Quindi, la zucchetta nera la metto lì, e poi vado a inserire anche dei piccoli flakes olografici arancioni, e ovviamente la riempio tutta. E poi, insomma, ci faccio quello strato trasparente anche qui. Poi, qui decido di mettere del pigmento metallizzato viola, e spalmarlo bene su tutto lo stampino. E poi ci aggiungo dei flakes viola, sempre olografici, bellissimi. Insieme sempre allo strato trasparente, che poi dopo alcune di queste creazioni avranno un semplice strato nero di sfondo per far risaltare i flakes olografici o i confetti arancioni, per esempio. Invece quelli con confetti neri, nella mia idea era di metterci uno sfondo colorato. Poi qui ho questo pigmento che ho messo in questa confezione di medicinali, vabbè, lasciamo perdere. Ho verde e arancione che si illuminano al buio. Qua abbiamo questo... Sposto un po' di cose. Voglio fare... Ah, sì, qua mi è venuto in mente di mettere dei flakes arancioni, lì, per poi farci la base nera, per far risaltare tutto. E qua abbiamo... Sì, ecco qua, ho spanto tutto, mi è caduto un ragnetto sopra un'altra creazione, disastro. Disastro, perché sono così pastigiono in questo video, lasciamo perdere, non voglio saperlo. Comunque, vado a fare un cristallo, vado a mettere pigmento verde florescente dei ragnetti, e poi flakes viola, perché mi piaceva l'idea. Mi sembrava una cosa un po' così creepy, però stile anni 90, ai bordi del buio, o creep show, non so. Non lo so, nel mio testo ha senso. Faccio un altro cristallo, invece, col pigmento arancione che si illumina al buio, e vado a mettere dei confetti di zucche nere. Vado con sempre lo stossicadenti e le pinzette a posizionare tutte le cose, sperando che restino lì dove le ho messe, ma... Spoiler, lasciamo perdere. Però a creatura, io mi sono impegnato davvero. Adesso andiamo a mettere, a fare le pietre. Metto un po' di flakes, un po' di confetti, un po' di pigmento che si illumina al buio, perché ho avanzato anche della resina trasparente, quindi volevo recuperarla così. A un certo punto, poi, la resina ha catalizzato tutto di colpo. Il bicchiere è diventato bollente, e ho iniziato a preoccuparmi che si catalizzasse, appunto, diventasse dura tutta nel bicchiere, e quindi ho iniziato a fare cose a caso, perché le altre, bene o male, mi ero pensato prima a come farle, invece queste sono andate molto a... Oddio, devo muovermi, facciamo cose per non sprecare la resina. E quindi ho mischiato colori a caso, ho messo pigmenti, ho sbriciolato appunto il gesso rosso, perché volevo fare una cosa tipo vampirica con il pipistrello e il sangue. Però non è... Vabbè, spoiler, non è niente. Poi ho aggiunto qui, ho colorato con il pigmento bianco Jack, bianco perlato, attenzione, non era un bianco qualsiasi, era perlato. Poi, nella resina che si stava tutta indurendo di colpo, ho messo il colorante bianco e l'ho colato sullo stampino di Jack. E' stato molto difficile, perché si stava proprio indurendo tutto di colpo. Il bicchiere era veramente bollente, no bollente no, ma veramente molto caldo. Adesso bollente, mi sto girando, ho detto per sbaglio. Vabbè, fa niente. Però veramente caldo e mi sono preoccupato anche. Qua dopo si era asciugato tutto e vado a creare il viola da sola. Con il rosso e il blu, e con il giallo e il blu vado a creare il verde, ma non mi sono usciti dei colori che volevo. Volevo che fossero molto più acidi, un verde acido e un viola molto più chiaro, molto più vivido, e invece mi sono usciti così. Ho detto, vabbè, tanto ormai ho fatto schifo, in questo video facciamolo totalmente. E così l'ho colato lo stesso, sperando che per qualche motivo sovranaturale si schiarissero durante la seccatura, l'indurimento. E invece ovviamente non è stato così, anzi. Però lasciamo perdere gli ho colati lo stesso. Ho detto, ma sì, speriamo che vengano comunque bene. Quindi io volevo fare appunto lo sfondo verde e viola, sia della tavola Wish, sia della planchette, che del gattino demoniaco. Al gattino demoniaco ho anche fatto gli occhi precedentemente con il pigmento arancione fosforescente. Qui ho colato insieme i due colori per creare appunto una cosa più o meno equa. Vabbè, dettagli. Vedrai dopo con lo scopriamo le creazioni che capi è successo. Perché io non me ne aspettavo, ma è andato tutto storto, è andato tutto il creatore. Non so cosa dirti onestamente. Ridiamoci su. Poi qua ho mischiato la resina con il colorante nero per fare tutte le altre creazioni che avevano fatto proprio per questo motivo, per avere lo sfondo nero. E quindi andiamo a colarlo. a colare questa resina nera sulla planchette con le zucchette arancioni, sulla planchette quella con il pigmento viola metallizzato, sulla bara che ha anch'essa i flakes arancioni, la zucchetta nera, e quella specie di parour che volevo fare con lo sfondo, ho anche questo con i flakes arancioni e le zucchette orecchini, le zucchette arancioni. Insomma, nella mia testa aveva tutto senso. Poi ho avanzato anche della resina nera e l'ho colata, per non perderla, dentro allo stampino quello di pietra, per fare una pietra nera, l'opale, diciamo, è l'opale che è nero. Ah, io comunque ho delle pietre mie vere. Se vuoi te le mostrono un video, fammelo sapere con un commento, magari a novembre, perché non è proprio tema a lui, anzi non è per niente. Comunque adesso facciamo seccare tutto e andiamo a scoprire le creazioni. E' andato tutto storto, ma nonostante ciò andiamo a scoprire le creazioni. Non sono per niente soddisfatto, spero che per alcune, spero che per altre, di avere delle belle sorprese, perché altrimenti, cioè, vabbè, non mi esprimo. Fammelo sapere nei commenti, dirmi su tutti il morale, creatura. Onestamente non so se il problema è stato, appunto, le dosi, sono state le dosi un po' a cazzum della resina, o anche che adesso c'è freddo, perché questo cristallo non è asciutto del tutto. E' tipo gommoso. Era comunque bellissimo, e avrei voluto regalarlo, però, appunto, se non si asciuga totalmente, diventa rigido, dovrò rifarlo. Questi sono stati fatti con la resina di scarto, quindi guardiamoli subito. Beh, questa era semplicemente resina nera di scarto, per non putterla via c'ho fatto una pietra. Questo non mi ricordo, non l'avevo messo tipo del gesso rosso, perché è arancione. Vabbè, tanto era resina di scarto, non è neanche brutta. Qui c'era l'arancione che si illumina al buio, se non ricordo male, no? Forse i flakes... Vabbè. Questa non mi dispiace, dovrebbe anche illuminarsi al buio. Questo è l'unico carino dei cosi di scarto, che per adesso abbiamo visto. Ok. Vediamo questo che poi dovrò finire di decorare a Jack. K Allora oddio mi è venuto bellissimo non sto incontrando nulla non si vede ma è bellissimo a parte che c'è una mega bolla qua vabbè dettagli ci sono un po' di bolle che rende però tutto ancora più creepy però non so se stai vedendo qualcosa perché c'è la luce tutta separata e praticamente è uscito bianco perlato ma è molto creepy io adesso andrò a colorare i dettagli con dell'acrilico nero e vorrei anche un po' tipo invecchiarlo non lo so che bello questo quasi quasi stavolta le bolle, gli errori creano quella cosa più inquietante danno quel tocco che mi piace si vede qualcosa eccolo qua allora voglio guardare prima questi che so già che non sono venuti come volevo perché appunto come già ti ho già detto io volevo che fosse molto più chiaro il colore qua poi è scivolato dentro del rosso non lo so che cacchio è successo in più se andiamo a girare lo stampo notiamo che un occhio è rimasto lì e l'altro occhio si è tutto riempito e poi mi sembra più tutto viola ma che cacchio è successo se il tavolo è tutto sporco dovrò buttare al tavolo e tutto in lavatrice ma vabbè andiamo a vedere questo speriamo bene ma è totalmente random oddio ma è stranissimo ma che cavolo è successo qua il verde si è mischiato col viola e è uscito un nuovo colore stranissimo in più ci sono delle ti dirò che è talmente brutto che è bello cioè ha deciso lui di uscire così e quindi lo accettiamo poi ha un buco nell'occhio mi servirebbe un taglierino per provare a rimuovere la parte viola e tenere quell'arancione ma è venuto troppo strano comunque cioè guarda quasi quasi mi piace però sì non è l'idea che volevo cioè dannazione vabbè è andata così le riproveremo a fare PS ho un nuovo stampo che mi è arrivato proprio oggi e che useremo nelle creazioni in resina di novembre ho delle idee bellissime ed è mautunnale però appunto devo acquistare una bilancia di nuovo quella che avevo per la resina perché quella da cucina è negata non va bene non la provo per nulla vediamo la tavola wish allora poteva uscire peggio però non è per nulla l'idea che volevo e questo viola qui non so che problemi avesse ma si è preso tutto e mischiato col verde ha creato un colore orribile che è tipo un verde bottiglia però la mia idea iniziale non era male è che qualcosa è andato storto però non è male è horror qui c'è del verde come doveva essere però sai che ti dirò che alla fine non mi dispiace essendo anche Halloween quindi ci sta però appunto non era la mia idea principale andiamo a vedere questo niente il verde proprio ha deciso di dissolversi in qualcosa che non esiste in un verde schifo insieme al viola però è bello comunque andrò a farci dettagli verdi probabilmente almeno quelli o bianchi forse così risaltano bene eh niente questi sono stati proprio fail cioè volevo fare un modo di estrarre qualcuno e regalarle creazioni ma dubito che vi piaceranno questa dovrebbe essere la quella con semplice nera e arancione questa è venuta bene ma è semplice non ho mischiato i colori era già nero questa è venuta molto carina devo dire almeno una soddisfazione dai molto di Halloween però non è secca del tutto è ancora morbido ma penso che sia perché c'è freddo qui in casa mia perché comunque si stava solidificando a un certo punto ha catalizzato questa mi piace sono soddisfatta vediamo questa parure che ho fatto molto particolare strana molto strana pensavo che l'arancione dei flakes risaltassi di più invece viro un po' sull'arancione e il verde vediamo gli orecchini che avrei voluto abbinare molto carini gli orecchini sono bellissimi vorrei e sono anche abbastanza catalizzati bene quindi questi mi serve regalarli senza altro inizialmente li avevo fatti appunto da regalare però doveva essere con lana e orecchini abbinati ma vabbè fammi sapere creatura forse è meglio così allora vediamo adesso questa qui che è la para bella mi piace molto questo effetto non ho mai fatto dei fail così veramente cosa succede quest'anno o in questi giorni e questa penultima no vabbè terzo ultimo ci sono anche i cristalli dopo da vedere forse saranno le uniche disfavioni chi può dire vediamo questa ecco questa è bella questa è particolarissima praticamente si intravede l'effetto metallico del pigmento che ho messo viola e poi sotto c'è tutto un effetto olografico stupendo ecco almeno una su tutte queste possiamo dire che almeno una è venuta una figata atomica questo è bellissimo mamma mia tutto il resto merda ok vediamo questi due cristalli questo è arancione si illumina il buio è sceso tutto tutte le succhiette sono scese appiccicandosi l'una sull'altra non male ma poteva anche essere meglio visto che io le avevo posizionate bene e l'ultima l'ultima è bella finalmente una bella creazione questa l'avevo proprio immaginata così questi ragnetti sul verde acido tossico e poi qua il viola quello grafico finalmente una bella creazione ti chiedo anche qual è la creazione che ti è piaciuta di più io sicuramente questa e anche questa mi impegnerò a procurarmi una nuova bilancia e a fare delle creazioni belle come una volta qualcosa è andato storto ma nell'andare storto sono comunque belle però non sono l'idea che avevo scelto l'idea principale come al solito però a conti fatti direi che non sono così male ecco sì dai poteva decisamente andarmi molto peggio quindi dai siamo positivi spero che comunque il video ti abbia rilassata e io ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura grazie